Se siete in questo video e volete vedere come completare le sfide di Snowman su Fortnite Beh, siete nel posto giusto Lasciate like raga, iscrivetevi al canale E condividete il video a tutti i vostri amici per farvi completare anche a loro Ok raga, ci troviamo proprio qui ovviamente nel primo punto raga Dovete atterrare semplicemente in questa zona E visitare questo piccolo capanno E questo avamposto con le tende Mi raccomando raga, aprite anche le chest Perché c'è un'altra sfida che vi chiede di aprire le chest proprio in questi luoghi di Snowman Ovviamente io sono in parco giochi e non me la conta Raga, passiamo subito al secondo luogo Mi raccomando raga, iscrivetevi Iscrivetevi è fondamentale Ok raga, stiamo atterrando Questo è proprio il secondo luogo Vi faccio vedere proprio il ping Ci troviamo qua dietro Gattogrill E niente, aprite le chest anche qua Mi raccomando, visitate questo luogo per fare la vostra missione Passiamo subito al terzo luogo Raga, eccoci nel terzo luogo O quarto, non mi ricordo sinceramente Eccoci qua, siamo a destra di Gattogrill Vi metto proprio il ping Questo piccolo avamposto raga È anche abbastanza grande in realtà Più che piccolo Raga, mi raccomando il like Perché ora andremo a vedere l'ultimo, credo Il quarto, non mi ricordo Luogo per completare le sfide di Snowman Ok raga, sono un po' stupido Io era il terzo luogo Questo infatti è il quarto Questa base abbastanza classica Dove ci sono anche i pazzi di neve E beh, atterrate qua Se non ve la da in questo punto Provate ad andare anche lì In quel punto lato C'è la torretta con i radar E niente raga, questo era il quarto posto Andiamo all'ultimo raga Mi raccomando il like Raga, sono sincero In realtà l'ultimo posto sarebbe questo Ma c'era una specie di struttura Prima ora è sparita Non capisco perché Perché in realtà io Prima di fare il video avevo visitato Per vedere quali erano appunto le zone E questa c'era Una specie di basetta Stile rampe ghiacciate Season 7 Ma non c'è più Probabilmente sarà stata Buggata e l'hanno disabilitata Però appena la riabilitano Raga, si trova qua In questa zona verde Sotto Gatto Che è proprio vicinissimo a Gatto Che è il raga E niente Il video finisce qua Ovviamente era un video veloce Per farvi vedere queste sfide Mi raccomando raga Lasciate like se vi è piaciuto E iscrivetevi se vi è stato utile Così ne porterò altri in futuro E niente raga Ci vediamo ad un prossimo video Bella